20 anni di reclusione, questa la condanna chiesta per Leonardo Sacco, l'ex governatore della confraternita Misericordia di Isola di Caporissuto, condannato in primo grado con rito abbreviato a 17 anni e 4 mesi di reclusione con l'accusa di associazione mafiosa nell'ambito del processo Johnny contro le cosche d'Indrangheta, Arena e Nicosia che riguarda tra l'altro la gestione del centro d'accoglienza richiedenti asilo Sant'Anna di Isola Caporissuto. Nel corso della requisitoria d'appello il sostituto procuratore antimafia Domenico Guarascio, applicato come sostituto procuratore generale, ha chiesto una parziale riforma della sentenza. Oltre alla condanna per Sacco, il PM ha chiesto la condanna a 20 anni di reclusione per Antonio Poerio, Angelo Muraca e Fernando Poerio, a 5 anni per Stefania Muraca, a 14 anni per Antonio Poerio di 39 anni, a 10 anni per Mario Manfredi, 8 anni per Domenico Mercurio, 10 anni per Mario Ranieri, 3 anni per Silvia Muraca, 12 anni per Mario Guareri, 3 anni per Maria Morrone, a 14 anni e 4 mesi per Santo Tipaldi. Nel resto il PM ha invocato la conferma della sentenza di primo grado emessa il 18 giugno 2019. Il prossimo 15 gennaio è prevista la conclusione delle discussioni delle parti civili. L'avvocato Giogliotti per Antonio Frustai e Frank Mario Santa Croce per le misericordie. Le accuse contestate a vario titolo vanno dall'associazione mafiosa all'estorsione, porto e detenzione illegale di armi, intestazione fittizia di beni, malversazione ai danni dello Stato, truffa aggravata, frode in pubbliche forniture e altri reati di natura fiscale.